La Turri si ripiomba nell'incubo retrocessione dopo la cocente sconfitta inflitta dal Potenza che passa a Liguri per 1-0 di uno scontro diretto in chiave salvezza. Gli uomini di Fontana iniziano bene la sfida con Giannone che prova da fuori ma il tiro è centrale. Alla mezz'ora sono gli ospiti a rendersi pericolosi con un colpo di testa ravvicinato di Murano che trova la pronta risposta di Fasolino. A quarantesima occasione colossale sciupata da maniero che a pochi passi dalla porta colpisce male il pallone crossato da guida mandando alto sulla traversa. Poco dopo ancora Murano in diagonale ma il pallone sfiora il palo. Nella ripresa ancora Corallini in avanti con Contessa che manca il bersaglio stessa sorte per Zampa poco dopo. Insiste la Turris con guida ma stavolta Gasparini a salvare i suoi mandando in angolo. Al sessantesimo Caturano in verticale per Arzia Zmanovic che supera un difensore e appoggia in rete aiutato dal palo. Potenza in vantaggio. La partita scorre via fino ai minuti finali quando prima Nianfi e poi Longo in acrobazia provano a cambiare il risultato. Finisce così tra i fischi del pubblico presente che contesta squadra e società. La classifica ora si fa preoccupante con la salvezza diretta che dista 7 punti. I Corallini ora sono in ritiro in vista della dedicata trasferta di Crotone.